Ciao a tutti, ci troviamo nel Monferrato, patrimonio unesco per la sua particolarità unica di territorio. Le verdi colline e i numerosi vigneti regalano paesaggi fantastici. Nel Monferrato possiamo scoprire alcuni dei più belli castelli d'Italia e in alcuni si può pure soggiornare. Tra vigneti sconfinati sono presenti diverse opere d'arte come ad esempio le matite colorate e le panchine giganti. Il castello di Piovera è un luogo magico e ricco di fascino. Si narra che l'edificio nasconde misteri ed eventi paranormali. Piovera è un luogo magico. 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 non potete perdervi una visita al Vialbero, spicca isolata tra terre e vigneti. È un gesso su cui è cresciuto un ciliegio. Piovera è un luogo magico. nato con l'intenzione di ravvivare alcuni angoli del paese. spero che il video vi sia piaciuto. vi aspettiamo al prossimo viaggio. ciao, ciao! 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 ciao!